ondata di caldo record e livello più alto mai registrato negli ultimi 60 anni e stiamo a vedere che magia che ti fa signore non si preoccupi che lo so guarda che rollo, guarda che rollo, guarda che rollo, non scienziato, io sono non scienziato eccoci, ma proprio, ma neanche veramente Archimede lo faceva, copertina mamma mia, mamma mia non ci credo ma sei impazzito, ma ti rendi conto di quanta energia stai sprecando Anna, guarda che ho usato anche per fare l'uovo, ho usato il sole prendi questo va bene, grazie i cazzo sono inventati i cinesi con questa roba però vedi che non lo, non, non, non si, non ce n'hai un altro, nonna va bene, grazie 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 grazie